I rapporti fra PDL e Lega sono buoni e sono quelli di un comune impegno per quello che riguarda i ballottaggi che saranno in corso nel nord e fondamentalmente in primo luogo per quello che riguarda Milano. A Milano noi insisteremo su quello che ha fatto Lamoratti nel corso della precedente legislatura, sugli impegni futuri e anche sul fatto che il candidato della sinistra esprime la sinistra più radicale e più estrema che mette in questione tanti problemi programmatici che invece Lamoratti stava risolvendo e quindi è un appello anche alla borghesia milanese perché faccia i conti poi per quello che riguarda la scelta del sindaco rispetto agli orientamenti programmatici reali. Un conto sono le elezioni amministrative e un conto è il quadro politico generale quindi da questo punto di vista il governo proseguirà nella sua azione dovendosi misurare con i nodi dell'economia, con il problema di una crisi finanziaria internazionale che prosegue e anche con tutti gli sforzi che vanno fatti per aumentare la crescita.